L'ex sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia è di nuovo indagato per voto di scambio politico mafioso dopo essere stato coinvolto nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catania denominata Exitpol e arrestato il 21 settembre dello scorso anno insieme con il fratello Fabio, consigliere comunale del Partito Democratico. Gli arresti furono successivamente annullati dal Tribunale del Riesame di Catania e dalla Cassazione ma le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Emanuele Melfi, operaio di Giambattista Puccio, coinvolto nell'indagine Exitpol e arrestato insieme ai fratelli Nicosia nel settembre dello scorso anno, hanno riaperto le indagini. All'ex sindaco di Vittoria è stato adesso notificato un altro avviso di chiusura di indagini rispetto a quello di inizio giugno di quest'anno, quando l'originale ipotesi di reato di scambio elettorale politico mafioso è stata derubricata in corruzione elettorale. L'ex amministratore vittoriese sarebbe accusato di avere partecipato ad un incontro appositamente convocato nel corso del quale il mafioso Giuseppe Puccio avrebbe dato precise indicazioni di voto ai presenti. A rivelare il nuovo capo di imputazione, lo stesso Nicosia, che respinge ogni accusa e annuncia querele. Non conosco questo Melfi, ha detto nelle memorie difensive che il mio legale Maurizio Catalano sta predisponendo dopo la notifica della nuova chiusura di indagini, lo denuncerò per calunnia agli stessi magistrati con i quali sta collaborando.